Come annunciato a Palazzo di Città nella partecipata conferenza stampa, è arrivata a Taranto la squadra stellare del cielo itinerante, con i suoi laboratori pratici per avvicinare i più piccoli allo studio delle materie STEM e promuovere così la cittadinanza scientifica. Grazie all'impegno convinto e costante verso le nuove generazioni da parte di Taranto 25, la quarta edizione del progetto Italia Brilla Costellazione 2024 parte proprio dalla città dei due mari, come sottolinea Fabio Tagarelli. Qui abbiamo degli scienziati che sono venuti a Taranto, di un'associazione che poi ha una madrina iconica del mondo italiano, che è Samantha Cristoforetti, che è madrina del cielo itinerante. E quindi i docenti di Samantha Cristoforetti, questi astrofisici, portano quel valore incommensurabile che ha la figura di Samantha Cristoforetti per tutti noi. Oggi questi scienziati sono con i bambini di Taranto, in tre giorni avremo 160 bambini in tre diverse scuole che potranno vivere questa esperienza. Cosa proponete, giovanissimi? Inizieremo come al solito con due laboratori dove i ragazzi potranno toccare la scienza con le mani perché proporremo dei laboratori end zone dove comunque loro si medisimeranno nel ruolo dell'astronauta. E' una delle professioni più gettonate ultimamente? Ultimamente sì, tra i bambini, grazie comunque al role model come Samantha Cristoforetti, riusciamo ad avvicinarli a questi lavori che sembrano molto distanti da noi, ma invece sono possibili per tutti. Tre dunque le scuole coinvolte, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, l'Istituto Comprensivo Renato Frascolla e l'Istituto Comprensivo Maria Ausiliatrice che ha ospitato la prima tappa del tour. Sappiamo che questi laboratori oggi stimoleranno i nostri ragazzi a sviluppare la passione per le materie matematiche e scientifiche, ma soprattutto culmineranno nell'appassionante e affascinante osservazione del cielo. Le stelle oggi ci parleranno anche un po' di Dio.